Si chiamano PINGER i nuovi dispositivi acustici individuati dai ricercatori per allontanare i delfini e le tartarughe dalla pesca. Il progetto realizzato dalla CNR, Consiglio Nazionale della Ricerca, in collaborazione con l'Istituto di Scienze Marine di Ancona, ha avuto l'obiettivo di salvaguardia delle attività ambientali sostenibili della piccola pesca. L'ideazione di dispositivi acustici che coprono un raggio di circa 4-500 metri e collegati alle reti permettono la dissuasione e l'allontanamento dei mammiferi marini dagli attrezzi al fine di evitare i danni e la tutela della pesca. Il PINGER è un dispositivo di dissuasione acustica che emette dei suoni in acqua e interagisce con il delfino inducendone l'allontanamento rispetto all'attrezzo da pesca dove questo è montato. La sua efficacia è da considerarsi nel breve termine. È in grado di indurre un allontanamento del delfino dalla zona in cui è applicato l'attrezzo da pesca e questo è sostenuto anche sul piano scientifico da una rilevante quantità di pubblicazioni scientifiche. Le stesse pubblicazioni scientifiche hanno dimostrato che nel lungo termine l'applicazione di questo PINGER viene a rendere in realtà opposto l'effetto, ossia il delfino impara che lo stimolo indica la presenza di pesce, che indica la presenza di prede da poter cacciare e quindi l'effetto viene di fatto ribaltato.